buongiorno amici e ben ritrovati voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito lasciando un like nell'altro video della polaroid snap oltre 570 like e oltre 3300 visualizzazioni grazie di cuore il vostro contributo porterà comunque dei nuovi contenuti in questo canale per aiutarvi grazie di cuore ora abbiamo la polaroid di jacopo da roma che saluto ciao jacopo lui ha visto l'altro video mi ha scritto sotto nei commenti ci siamo messi d'accordo ed ecco qui la sua polaroid con lo stesso problema della batteria come vi dicevo sotto nei commenti io ho ordinato le batterie le vedete qui in questo pacchettino ovviamente ne ordinate soltanto due e vi piacerebbe sapere dove le ho prese queste sono batterie originali soltanto che mi dispiace per tutti gli altri ma questa è di federica e questa qua è di jacopo vi ricordate l'altro video di federica gliela voglio cambiare sicuramente gli farà comodo questa batteria quindi non ho più batterie mi dispiace per tutti gli altri comunque per aiutarvi metterò qui sotto in descrizione il link del fornitore delle batterie originali però attenzione che ci vuole tanto tempo per farla arrivare ve lo dico subito io ho impiegato circa tre mesi per ricevere queste batterie quindi non ci resta altro che andarla a provare sulla macchina di jacopo e vediamo un po come funziona questa batteria iniziamo subito ad aprire la macchina fotografica dopo aver rimosso la copertura accediamo al vano batteria al primo impatto noto subito che la batteria è uguale e precisa infatti ha delle scritte che sono proprio uguali precise anche la dimensione anche i colori dei figli e proprio lei la batteria ma per non mischiarla e riconoscere la batteria vecchia faccio una x così sappiamo che questa è la batteria vecchia e poi iniziamo a rimuovere la batteria fate attenzione a questo connettore perché se rompete il connettore sulla macchina diventa un problema quindi tirate piano e la batteria è rimossa adesso che cosa posso fare fare subito un confronto visivo guardate è proprio lei la batteria la faccio vedere così se la volete comprare anche voi sapete dove andarla a comprare io per trovarla ho davvero fatto fatica e ho trovato un venditore dove è riuscito a procurarmi la batteria che poi vi metto sempre il link in descrizione quindi cambiamo la batteria facciamo subito questa prova batteria inserita una prova volante è proprio prendo il cavetto di ricarica e proviamo a vedere cosa succede attendiamo un attimino che si ricarica e poi proviamo ad accenderla e few moments later sono passati circa 15 minuti ma la macchina non si accende e la batteria non si ricarica ho provato anche a riattivare la batteria come ho fatto nel video di federica ve lo metto qui sotto in descrizione andatevelo a vedere perché è molto importante ma niente da fare amici miei il problema rimane questo è un bel problema per logica posso fare un tentativo quindi posso prendere una batteria dove so che funziona realmente quindi una batteria di una polaroid funzionante e metterla dentro qui per capire se il problema è sulla scheda logica o se sono un problema di queste tre batterie quindi che mi hanno venduto delle batterie non funzionanti vi faccio vedere questa macchina è una macchina che ha lo sportello rotto quindi se io vado a prendere adesso ve la accendo quindi se io vado a prendere la batteria di questa polaroid posso sicuramente fare questa prova questa è un'altra macchina che forse vi faccio vedere in un'altra riparazione ma l'importante è prendere la batteria di questa macchina metterla dentro qui e fare la prova del 9 quindi non vi faccio perdere altro tempo vado subito a togliere la batteria e la proviamo dentro qui un secondo per voi 10 minuti per me abbiamo una 2 3 e 4 batterie la quarta batteria è testata amici e quella che abbiamo visto prima insieme quindi siamo sicuri che questa batteria è carica e funziona andiamo ad accendere la macchina ma niente da fare niente niente la macchina non si accende ho provato anche a collegarla al pc ma non viene riconosciuta quindi so che la batteria è buona perché l'abbiamo provata ma la scheda logica ha qualche problemuccio dunque parlando con jacopo ha preferito mantenere la scocca nera e sì amici avete già capito quindi da due polaroid ne farò soltanto fuori una anche perché quella bianca è solo per pezzi di ricambio bene amici allora quindi cambio le due schede logiche richiudo la macchina e la proviamo insieme scheda logica sostituita con quella funzionante che abbiamo visto prima ma con la batteria di jacopo quella che abbiamo visto all'inizio del video contrassegnata con una x per non confonderla con le altre perché per fare una prova incrociata è l'ultima prova che voglio fare per capire se la batteria è buona quindi andiamo insieme ad accendere la macchina e vediamo un po cosa succede perfetto amici funziona perfetto perfetto mettiamo sotto qualcosa davanti alla telecamera perfetto amici funziona benissimo a volte diamo per scontato che sia la batteria ma non è sempre così questo video dimostra che i problemi possono anche essere nella scheda logica non so il motivo sinceramente ma cercando gli schemi su internet io non ho trovato niente alcuni componenti anche se vi può sembrare strano sono dei componenti creati apposta per queste schede quindi dei componenti speciali che non si trovano in commercio ed è per questo che a volte conviene sostituirla tutta intera e via io vi metto il link in descrizione per acquistare queste batterie però non voglio prendermi la responsabilità se poi la macchina non si accende ancora quindi tenete conto che il problema potrebbe essere anche nella scheda logica adesso faccio ancora l'ultima prova ma mi sposto all'esterno di questo locale quindi attenzione seguite il video perché vi porto in un bel posto per scattare una bella foto quindi 3 2 1 via siamo a como giù in fondo lì c'è la funicolare che arriva fino su a brunate e qui alla mia destra abbiamo il duomo di como vi faccio vedere un piccolo video del panorama di como qui dietro invece abbiamo il tempio di alessandro volta vi ricordate le vecchie banconotte da 10.000 lire su quelle banconotte è raffigurato il tempio di alessandro volta per chi non è mai venuto qui a como io vi consiglio di farvi un giro perché merita molto adesso prendo la macchina fotografica di jacopo scatto una foto e poi la andiamo a stampare insieme macchina fotografica in posizione vado a scattare la foto stampa stampa e vediamo cosa esce nel frattempo vi faccio vedere un po il panorama del tempio di volta eccola qui sta uscendo bene amici per oggi è tutto vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video fino qui un salutone a tutti ciao